Per agevolare il pagamento della droga aspettava i clienti davanti a un banco, Matt trattava il prezzo, faceva prelevare il denaro e poi procedeva allo scambio. Non è stato facile per i carabinieri di saltare, avvicinarsi e documentare la consegna delle dosi senza essere visti. Addirittura alcuni spacciatori sono riusciti a disfarsi dello stupefacente appena avuto la percezione che vi fossero i militari nei paraggi. Inoltre, considerata l'assenza di sistemi di videosorveglianza in zona, i carabinieri si sono attrezzati di una telecamera installata nelle vicinanze del luogo prediletto dal pusher. A distanza sono riusciti quindi ad osservare l'uomo mentre arrivava. Dopo poco è giunto il cliente. Una breve trattativa tra i due e a seguire il prelievo di una banconota da 50 euro per pagare tre dosi di cocaina. A quel punto le forze dell'ordine, con le prove filmate in mano, si sono avvicinati facendo capire loro che sarebbe stato inutile negare lo scambio. L'uomo, un 33enne del posto, è finito in manette in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l'assuntore, segnalato alla prefettura,